Facciamo adesso meglio, la conoscenza della nuova troncita di uomini e donne Sara Tozzi. Ossia la splendida 22enne che siete nel trono classico di Maria de' Filippi, per questa stagione 2019-2020. Come potete vedere anche da casa segni particolari molto bella, ma anche molto alla mano. Certamente Sara Tozzi non è un volto totalmente sconosciuto della televisione italiana. Infatti la redazione di uomini e donne si era accorta di lei, già nella precedente edizione del programma di Temptation Island. Ovviamente nel ruolo di corteggiatrice. Probabilmente in molte non si ricordano di lei, perché non ebbe particolare risalto. E forse questo è stato anche un fattore che le ha dato lo slancio per fare la tronista. In quanto probabilmente, questo anno, almeno per quanto riguarda le due donne, la redazione ha optato per mettere sul trono dei volti meno conosciuti. Oltretutto la sua collega Giulia Quattro ciò che non ha mai fatto televisione prima. Biografia della tronista di uomini e donne. Ma cerchiamo di capire meglio chi sia Sara Tozzi. Infatti anche se dall'accento non sembra la ragazza è nata a Modena nel 1997. Nonostante abbia fatto Temptation Island come corteggiatrice è un episodio abbastanza sporadico e come, nel caso della sua collega tronista di lei non si hanno particolari notizie. Anche sull'età dobbiamo essere generiche. Sappiamo che ha compiuto gli anni ad agosto? Ma non conosciamo la data precisa. La redattrice Raffaella Mennoia non l'ha comunicata. Vita privata. Padre gestore di locale. Madre impiegata. I genitori però sono separati e il padre convive con una nuova donna. Ha due fratelli più piccoli. Chiara e Tommaso di 20 e 12 anni rispettivamente. Ha frequentato il liceo Carlo Sigonio di Modena con indirizzo pedagogico. Ama molto i bambini. Attualmente nella vita è impiegata come barista a Modena. Scheda biografica Sara Tozzi. Nata a Modena. Nata nell'agosto 1997. Residente a Modena. Altezza 1,70 cm. Capelli biondo scuro. Occhi verdi. Segno zodiacale leone. Obby ama viaggiare e i tatuaggi nella vita è una sognatrice. Profilo Instagram. Grazie. Grazie. Ciao.